La scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata nel terzo pomeriggio di ieri nel territorio ebleo Vittoria Compresa, all'epicentro nel canale di Sicilia ad una profondità di circa 39 km. Aveva appena compiuto una rapina ai danni di un panificio di pedalino, l'uomo che ieri sera è stato arrestato dalla polizia di stato commissariato di Comiso. Inutile, la fuga è stato fermato poco dopo. Era rimasto vittima di un incidente, i cui contorni sono tutti da chiarire, l'anziano di Vittoria morto dopo aver perso le gambe nell'incendio di una casa di riposo. L'episodio risale al dicembre scorso. In merito alle morti sospette all'ospedale civile di Ragusa, la senatrice Venera Padua ha presentato un'interrogazione al ministro Lorenzini. A lei la Padua chiede l'invio degli ispettori sanitari. A Vittoria il randagismo rimane un problema irrisolto, il nuovo grido d'allarme del consigliere comunale Andrea Larosa, mentre i cani in città scorrazzano sempre più liberamente. Ben trovati all'appuntamento con la nostra informazione. L'apertura oggi è dedicata alla scossa di terremoto di magnitudo 4.2 che è stata registrata nel tardo pomeriggio di ieri nel territorio Ibleo. L'epicentro nel canale di Sicilia ad una profondità di circa 39 chilometri. La scossa è stata percepita anche a Vittoria. Un po' di panico ma ha nessun danno a persone e cose. Erano circa le 18 di ieri pomeriggio quando nel territorio Ibleo la terra ha tremato. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 registrata dagli strumenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in mare. L'epicentro il canale della Sicilia meridionale, quindi Malta e dintorni, è ad una profondità di circa 39 chilometri. Secondo le prime testimonianze, proprio nell'isola dei Cavalieri si è stato l'impatto più volento con la scossa sismica, che sarebbe una tra le più forti degli ultimi decenni che si sia registrata nel canale di Sicilia. Un quarto d'ora prima, cioè verso le 17.45, si era verificata una lieve scossa, magnitudo 2.6, in questo caso a 33 chilometri di profondità a largo di Lavalletta. La scossa successiva, quella cioè più forte, si è particolarmente sentita nel modicane lungo la fascia costiera, ma anche nel vittoriese dove in tanti sono usciti per strada oppure affacciati dai balconi a chiedere ragguagli e conferma ai vicini di casa. Momenti di comprensibile panico, quindi, ma fortunatamente senza danni a persone o cose. E proprio a vittoria in tanti hanno pensato dire alla stessa cosa, ossia il famoso terremoto del 1693 e anche allora il mese di gennaio. Coincidenza e casualità che forse neanche gli esperti saprebbero spiegare. Aveva appena compiuto una rapina ai danni di un panificio di pedalino, l'uomo che ieri sera è stato arrestato dalla Polizia di Stato, commissariato di Comiso, fingendo di avere in tasca una pistola, si era fatto consegnare l'incasso per poi fuggire in auto. Arrestato ieri sera dalla Polizia di Stato, commissariato di Comiso, un uomo che poco prima aveva messo a segno una rapina ai danni di un panificio di pedalino. Si tratta di Fabrizio Donofrio, 49 anni, gravato da alcuni precedenti penali, nato in provincia di Firenze ma residente a Comiso. Erano circa le 18.50 quando l'uomo ha fatto ingresso nell'esercizio commerciale e si è rivolto alla titolare, una donna di 39 anni, tenendo una mano in tasca e simulando di avere una pistola. In dialetto le ha poi detto, rammi i soddi che non ti succedi nenti. La donna, seppur nel panico, ha tentato inutilmente di attirare l'attenzione del marito che era nel retro a preparare il pane. Il rapinatore, accorgendosi del tentativo messo in atto dalla donna, ha quindi continuato a minacciarla con la presunta pistola. A quel punto la vittima gli ha consegnato l'incasso della serata, 165 euro. Appena presi i soldi, Donofrio è uscito dal panificio, proprio mentre entrava un cliente abituale. La donna ha urlato, avvisando il marito. Quest'ultimo, insieme al cliente appena entrato, ha tentato di bloccare il rapinatore, mentre la signora chiedeva ad alcuni passanti di chiamare la polizia. Sul posto due volanti presenti a Comiso, due di Vittoria, la macchina della polizia giudiziaria dello stesso commissariato di Comiso e una pattuglia della squadra mobile sempre presente nel versante Ipparino. Le auto, coordinate dal centrale operativa di Ragusa, hanno chiuso la zona di pedalino alla ricerca del mezzo usato dall'uomo per fuggire. Secondo quanto riferito dal titolare del panificio, infatti, l'uomo era salito su una 147 di colore scuro. Il mezzo è stato intercettato sulla strada che da pedalino porta a Comiso da una volante del commissariato di Comiso e dopo un breve inseguimento bloccato. Perquisito, Donofrio non è stato trovato in possesso di alcuna arma, mentre il denaro, appena rubato, è stato trovato sotto il tappetino lato guida. Portato in commissariato è stato identificato e arrestato per rapina. I soldi, invece, sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Un 19enne residente a Vittoria è stato denunciato dalla polizia di Stato. Il giovane è stato sorpreso a casa di un soggetto agli arresti domiciliari. Addosso, inoltre, gli è stato trovato un coltello. È stato denunciato in Stato di Libertà alla Procura della Repubblica di Ragusa, un 19enne nato a Comiso ma residente a Vittoria. Nel corso dei controlli di polizia, gli arrestati domiciliari, tesi a verificare la loro presenza in casa e il rispetto delle prescrizioni che impongono loro di non avere contatti con persone diverse dai familiari conviventi, gli agenti della volante hanno notato un giovane entrare a casa ad un pluri pregiudicato vittoriese di 40 anni agli arresti domiciliari. Raggiunto l'uscio di casa, i poliziotti hanno citofonato nell'abitazione il pluri pregiudicato ed il ragazzo. Identificato, non è risultato tra le persone autorizzate ad avere contatti col padrone di casa. Il giovane è stato quindi perquisito e trovato in possesso di un coltello lungo 20 cm sottoposto a sequestro. Il ragazzo è stato denunciato per porto abusivo di arma, mentre il quarantenne pregiudicato sarà segnalato all'autorità giudiziaria per violazione del divieto di incontro. Dal commissariato di Vittoria inoltre verrà richiesto l'aggravamento degli arresti domiciliari con una misura più grave che possa contenere la sua dimostrata indole anomica. Era rimasto vittima di un incidente i cui contorni sono tutti da chiarire. Un anziano di Vittoria ricoverato in una casa di riposo è morto pochi giorni fa dopo aver perso le gambe nell'incendio della struttura registratosi a dicembre. Aperto un'indagine per l'omicidio colposo. La procura di Catania aperto un'inchiesta per la morte di un vittoriese di 67 anni, Bartolo Mainenti, morto a seguito alle gravi ustioni riportate alle gambe, subito lo scorso 21 dicembre, mentre si trova ospite presso una casa di riposo di contato a Boscopiano. L'incendio era partito da un materasso nella stanza in cui si trovava l'uomo e le fiamme lo avevano attento in particolare agli arti inferiori. I familiari avevano quindi presentato denunci in commissariato con l'ipotesi di reato che configura lesioni aggravanti colpose. Dall'ospedale di Vittoria l'uomo era stato quindi trasferito in elisoccorso al cannizzaro di Catania a causa delle gravissime ustioni riportate alle gambe. L'anziano vittoriese da quel tragico giorno era entrato in coma e non si era più risvegliato anche perché forse per il grande spavento è stato colto da infarto. A Catania era stato anche sottoposto a due interventi per l'asportazione degli arti inferiori, l'ultimo dei quali la scorsa settimana. La procura vuole adesso vederci chiaro e dopo la denuncia dei familiari ha disposto il sequestro della Salma per l'autopsia che è stata eseguita ieri e il cui esito si conoscerà tra 60 giorni. Al momento è indagato il rappresentante legale della casa di riposo. In merito alle morti sospette all'ospedale civile di Ragusa la senatrice Venera Padua ha presentato un'interrogazione al ministro Lorenzin. Si chiede l'invio degli ispettori ministeriali. Cosa c'è che non va nel reparto di chirurgia dell'ospedale civile di Ragusa se lo chiede la senatrice del PD Venera Padua dopo aver appreso il sorprendente numero di decessi nel giro di sei mesi, ossia ben 14. Come se non bastasse, in due casi i familiari hanno presentato denuncia senza dimenticare l'inchiesta interna disposta dall'ASP oltre all'acquisizione delle cartelle cliniche dei pazienti deceduti da parte della procura. Non è mia intenzione, afferma la Padua, creare allarmismi o crocifiggere qualcuno. Ma questi dati devono comunque spingerci a riflettere ed eventuali irresponsabilità penali vanno accertate. Auspico quindi che l'indagine interna all'ASP possa fornire chiaramente in tempi rapidi a pazienti cittadini ormai profondamente delusi dal doversi confrontare con una sanità che ha visto diminuire purtroppo gli standard qualitativi dei servizi. Nel caso Ragusa, prosegue l'esponente del PD, ci deve far riflettere e spingere tutti a valutare con la massima attenzione quali sono i passi da compiere per evitare che si ripetano appunto episodi del genere anche se è necessario verificare l'eventuale irresponsabilità. La Padua ha quindi presentato un'interrogazione chiedendo al ministro Lorenzini l'invio degli ispettori ministeriali e alla Presidente della Commissione Sanità del Senato un'audizione sul caso. Parliamo ancora di sanità. I consiglieri comunali del PD di Modica, Michele Colombo e Andrea Caruso, attaccano il sindaco Abate accusandolo di fare sulla questione sanità annunci ad effetto mentre intanto rischia di perdere due importanti finanziamenti. Vediamo. Piuttosto che ergersi solo a parola a paladino della sanità modicana, il sindaco Ignazio Abate si preoccupi con i fatti concreti di non far perdere alla collettività una somma pari a circa 1.800.000 euro. Così i consiglieri comunali del PD di Modica, Michele Colombo e Andrea Caruso, commentano la paventata perdita di finanziamenti in favore del distretto socio-sanitario 45 di cui il comune di Modica è capofila. Il distretto continua non sta perdendo i fondi PAC relativamente a due progetti che sono stati finanziati ma che non sono mai partiti. Uno riguarda l'assistenza domiciliare per anziani e l'altro i servizi integrati di assistenza all'infanzia. Inspiegabilmente, dichiarano i due consiglieri del PD, entrambi i progetti sono rimasti al palo. Entrambi prevedevano un investimento per ogni progetto di circa 925.000 euro. Una vera manna dal cielo che arrivava con fondi extracomunali in favore di un comune come Modica che ha un bilancio decisamente asfittico. E invece, dinanzi a questa opportunità, sembra proprio che non si muova foglia, spiegano Colombo e Caruso. Non ci resta altro che denunciare pubblicamente questa assurda vicenda e presenteremo un'interrogazione urgente al sindaco Abbate e all'assessore comunale di riferimento per comprendere i motivi per i quali questi due importanti progetti non siano andati avanti nel modo opportuno. Cambiamo argomento. Qual è la causa di questo disastro nel comparto agricolo che sta portando ad una costante caduta dei prezzi e al fallimento di tante aziende? Se lo chiede il consigliere di Azione Democratica Vittoria Francesco Aiello che parla di una casa che brucia riferendosi al mercato ortofrutticolo mentre tutti tacciono. Dove sta il problema e qual è la causa di tanto disastro nel comparto agricolo? E' l'interrogativo che si pone in quest'ora il consigliere comunale Francesco Aiello che rappresenta il mercato ortofrutticolo come una casa che brucia mentre tutti tacciono, nessuno che osa esporsi per proporre un'iniziativa, un intervento insomma un qualcosa che possa recare aiuto e soccorso ad un mondo agricolo abilito e sofferente. Le misure anticrisi di questi anni, prosegue Aiello sono rimaste nei cassetti della politica e della burocrazia europea ma la situazione è gravissima e dunque dobbiamo invocare l'attivazione del fondo di solidarietà nazionale e delle misure del fondo conti rischi perché fermi non si può stare. La casa brucia, sottolineo usando la metafora, l'ex sindaco e allora bisogna urliare le forze, chiamando all'appello sindaci e parlamentari perché ritengo che sia necessario innanzitutto costituire un fondo di garanzia anticrisi all'interno dello stesso mercato gestito da un consorzio specifico che sostituisca l'inutile e clientelare Vittoria Mercati. Il fondo, prosegue Aiello, dovrà avere anche una dotazione annuale e sarà formato dall'intervento pubblico del Comune e di altri Comuni ma anche della Regione e di altre istituzioni. Una situazione ormai intollerabile, conclude Aiello perché non è vendita, quella che porta a cedere il ciliegine a 10 centesimi va bensì una rapina. Tutte le novità sul PSR 2014-2020 in un convegno organizzato dal Circolo Rinascita Democratica del PD di Ragusa. Per l'occasione ci sarà anche l'europarlamentare Michela Giuffrida. Un'occasione importante per la particolare vocazione a sfondo agricolo della comunità ragusana ma anche un modo per approfondire tutte le novità concernenti il programma di sviluppo rurale 2014-2020 e questo il senso del convegno promosso a Ragusa dal Circolo Rinascita Democratica in programma sabato prossimo. Interverranno tra gli altri l'europarlamentare Michela Giuffrida e il deputato regionale Nello Di Pasquale. Come è noto, il PSR o programma di sviluppo rurale rappresenta lo strumento di finanziamento e attuazione del Fondo Europeo Agricolo e nell'ambito di queste risorse alla regione siciliana sono state assegnate risorse pari ad oltre 2 miliardi e 200 milioni di euro con un incremento di oltre 27 milioni rispetto alla dotazione precedente ossia al programma di sviluppo rurale Sicilia 2007-2013. Questo dato, da cui partire per pianificare la programmazione del periodo 2014-2020 fa della Sicilia la regione italiana cui è stata assegnata la maggior dotazione finanziaria a livello nazionale ed ecco perché ribadiscono da rinascita democratica di Ragusa che è fondamentale che tutti gli attori del comparto possano confrontarsi e soprattutto attingere alle notizie necessarie per avere l'opportunità al momento giusto di accedere ai relativi bandi. Riprendiamo la nostra informazione parlando di randagismo un problema che per il consigliere comunale Andrea Larosa rimane ancora irrisolto e intanto i cani in città scorrazzano sempre più liberamente. La presenza di cani randagi è purtroppo una costante che a vittoria peggiora col passare delle settimane lo afferma il consigliere comunale di sviluppo Iubi Andella Rosa. Le difficoltà del comune a muoversi ci saranno pure afferma Larosa ma da qui a non avvertire alcun segnale tangibile la dice a lunga sull'inefficienza di questa amministrazione comunale eppure non passa giorno che in città non ci arrivino segnalazioni di queste presenze creando in alcuni casi anche momenti di apprezzione per i cittadini. Larosa si rivolge quindi al sindaco Nicosia dopo averlo fatto inutilmente con l'assessore al ramo nella speranza che almeno in questi ultimi mesi di governo della città ci possa essere un minimo sussulto nel tentativo di venire in conto alle problematiche sollevate soprattutto dagli animalisti ma anche da molti cittadini che hanno a cuore le sorte degli animali a quattro zampe. Con sempre maggiore frequenza sottolinea ancora Larosa assistiamo a scene che non vorremmo mai vedere e che non sono certo degne di una città civile comune di rifiuta ad esempio agli angoli delle strade con i randaggi che rovistano tra le sacche di plastica per addentrare qualcosa di loro gradimento. Ci vogliono quindi risposte importanti a concludere l'esponente di sviluppo ebleo che questa amministrazione comunale non è stata però in grado di dare ed ecco perché diciamo che a questo punto non ci rimane che sperare nella prossima. Sopralluogo del sindaco di Ragusa Federico Piccitto ieri ai giardini Iblei al centro di importanti lavori di riqualificazione. 760 mila euro circa l'importo delle opere finanziate con i fondi della legge su Ibla. Proseguono all'interno dei giardini Iblei come da crono programmi i lavori di completamento della ripavimentazione e restauro degli elementi di arredo avviati lo scorso dicembre e per verificare l'andamento dei lavori il sindaco Federico Piccitto accompagnato dai tecnici comunali che hanno redatto il progetto ha effettuato un sopralluogo nel cantiere dell'impresa che sta eseguendo i lavori relativi appunto alla ripavimentazione del viale delimitato da lunga balaustra che si affaccia sulla vallata. L'intervento dell'importo complessivo di circa 760 mila euro finanziato con i fondi della legge su Ibla prevede anche il recupero funzionale delle aree principali del giardino pubblico previsti anche il restauro degli edifici delle colonine in pietre e degli elementi di arredo come le panche nel viale d'ingresso principale. Dagli interventi programmate anche il restauro filologico della vasca la pavimentazione del palco della musica della montagnola e l'installazione di paline nei viali del giardino in particolare per quanto riguarda la vasca si interverrà eliminando la siepe presente e sostituendo la ringhiera di protezione. Per il palco della musica è stata invece programmata una nuova pavimentazione che richiamerà il simbolismo del pentagramma attraverso l'alternarsi di basoli in pietra asfaltica e calcaria. La scuola regionale di sport di Ragusa ha ospitato il corso di aggiornamento di atletica leggera rivolto ai docenti di educazione fisica. Durante il corso ha rivolto un appello al comune per il recupero della pista di contrada Petrulli ridotta ai minimi termini. È stato molto partecipato il corso di aggiornamento di atletica leggera organizzato dal comitato regionale della FIDAL e ospitato nei locali della scuola regionale di sport Ragusa. I docenti che hanno partecipato hanno avuto l'opportunità di ascoltare e confrontarsi con i relatori ed erano presenti anche il delegato provinciale del CONI Sassacinto e la presenta la FIDAL Ragusa Adolfo Padua i quali hanno espresso apprezzamento per la qualità dell'iniziativa e per l'attenzione che i docenti ragusani hanno riservato all'evento. E dopo la disamina di tutti gli aspetti riguardanti il mondo dell'atletica leggera e le problematiche attinenti all'insegnamento è stato stabilito di rivolgere un appello all'amministrazione comunale sottoscritto dai partecipanti al corso circa un centinaio e proveniente da tutta la provincia per fare in modo che la pista di atletica leggera di contrada Petrulli ormai ridotta ai minimi termini possa essere recuperata. Si parla in questo caso ha dichiarato lo stesso Sassacintolo di un vero e proprio gioiellino un tempo appunto di riferimento di questa disciplina sportiva. così come la gabbia per il lancio del disco installata di recente ma che a causa del forte vento è rovinata a terra con le conseguenze del caso. Quindi per Sassintolo l'auspicio che le comuni di Ragusa possa destinare le somme necessarie al recupero di questo impianto. Di nuovo insieme per rivedere i fatti in primo piano. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata nel tardo pomeriggio di ieri nel territorio ebleo Vittoria Compresa all'epicentro nel canale di Sicilia ad una profondità di circa 39 chilometri. Erano circa le 18 quando la terra ha tremato secondo le prime testimonianze l'impatto più violento si è registrato a Malta un quarto d'ora prima una leve scossa percepita solo in alcune città la seconda è stata avvertita soprattutto a Modica. Aveva appena compiuto una rapina ai danni di un panificio di pedalino l'uomo che ieri sera è stato arrestato dalla polizia di stato commissariato di Comiso inutile la fuga è stato fermato poco dopo. In manette il 49enne Fabrizio Donofrio che fingendo di avere una pistola in tasca ha minacciato la proprietaria facendosi consegnare l'incasso 165 euro è stato fermato mentre tentava di scappare a bordo della sua auto era rimasto vittima di un incidente i cui contorni sono tutti da chiarire l'anziano di Vittoria morto dopo aver perso le gambe nell'incendio di una casa di riposo l'episodio risale al dicembre scorso i familiari avevano presentato denunce in commissariato dall'ospedale di Vittoria era stato trasferito al cannizzaro di Catania per via delle gravi ustioni riportate alle gambe qui nei giorni scorsi espirato in merito alle morti sospette all'ospedale civile di Ragusa la senatrice venera Padua ha presentato un'interrogazione al ministro Lorenzin a lei la Padua chiede l'invio degli ispettori sanitari Padua precisa di non voler creare allarmismi ma chiede di sapere cosa c'è che non va nel reparto di chirurgia del civile dopo aver appreso il sorprendente numero di decessi registrati negli ultimi sei mesi ben 14 a Vittoria il randagismo rimane un problema irrisolto il nuovo grido d'allarme del consigliere comunale Andrea La Rosa mentre i cani in città scorrazzano sempre più liberamente le difficoltà del comune a muoversi ci saranno pure afferma La Rosa ma da qui a non avvertire alcun segnale tangibile dimostra solo l'inefficienza di questa amministrazione comunale eppure non passa giorno che non arrivino segnalazioni questa edizione termina qui grazie per averci scelto arrivederci